Il capogruppo dei riformatori Michele Costa è stato eletto presidente alla Commissione Speciale per il Riconoscimento del Principio di Insularità, mentre alla carica di Vicepresidente è stato nominato il consigliere di Leu Eugenio Lai. La Commissione si è insediata stamattina alla presenza di Michele Paes, il presidente del Consiglio regionale, e ha completato l'ufficio di presidenza con l'elezione di due segretari, Dario Giagoni, capogruppo della Lega, e Roberto Ligioi del Movimento 5 Stelle. L'organismo consigliare è stato istituito con voto unanime dell'Aula il 24 settembre, che con 52 voti ha approvato l'ordine del giorno presentato da 13 consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, il primo firmatario Roberto De Rio del PD. L'obiettivo è quello di ottenere il riconoscimento del principio di insularità da parte dei rispettivi Stati e dell'Unione Europea per le regioni appartenenti a Stati sovrani e aderenti all'Unione Europea, in cui il territorio sia esclusivamente insulare e situato nel Mar Mediterraneo. Sicilia, Sardegna, Corsica, Isole Baleari, Creta, Isole dell'Egeo e Isole Ionie. Questa iniziativa consigliare è il frutto di un lungo e duro lavoro incentrato sulla necessità di un riconoscimento in costituzione del principio di insularità, va detto Roberto De Rio nel suo intervento in Aula. Per questo chiediamo oggi un pronunciamento unanime del Consiglio. L'obiettivo è ambizioso, riunire in un fronte comune tutte le regioni insulari del Mediterraneo nella contrattazione con l'Unione Europea. Solo così si potrà ottenere uno status speciale che ci permetta di superare lo svantaggio dell'insularità. Sulla stessa linea anche il consigliare Corsa, oggi nominato presidente dell'organismo consigliare, la battaglia per l'insularità, va detto, si è chiusa con il deposito di una proposta di legge ed iniziativa popolare firmata da oltre 100.000 cittadini. Per questo occorre utilizzare la leva degli argomenti soprattutto nel momento in cui le regioni ricche del nord hanno aperto un altro fronte sull'autonomia differenziata.